Benvenuti alla seconda puntata di Parazza Quiz Il film della settimana scorsa era Megaforce e oggi è stato indovinato dalla coppia costituita da Caterina e Leonardo che quindi si aggiudicano il primo punto della nostra nuova classifica a punti e ovviamente ricordiamo che più film indovinate più possibilità avete di vincere il premio finale che ancora non si sa La regola appunto è quella che se indovini il film puoi scegliere il prossimo film di indovinare Infatti ne hanno scelto uno per voi e questa è la scelta loro Cos'erano i 30 secondi Speriamo che voi abbiate già indovinato e comunque non possono però partecipare quelli che hanno già vinto No, perché altrimenti è troppo facile Esatto E non è che se nessuno indovina vi è beccato due punti Con i vostri amici che così è un po' più divertente per voi e per noi che così abbiamo più motivi per mangiare E diventiamo le ciccioni Magari Devo stare puntate Potremmo anche avere degli ospiti che vogliono venire a mangiare con noi Ci può dare qualcosa da mangiare Una bella spaghettata, un kebab, non lo so Un po' di pane merda Giusto per Che comunque per la cronaca non è mezzogiorno Ma sono tipo le tre del pomeriggio Però è sempre bello a mangiare Sì Perché c'è chi non può purtroppo Però Noi mangiamo per loro Sì Il loro onore A voi E alla prossima puntata di Parazza Quiz